È un'iniziativa di ABSI che è un'associazione che raccoglie fondi per tutti i problemi che ci sono nel mondo, dalla pace alla carestia a bambini che non riescono a vedere la luce. Quindi non è la prima volta, sono ormai diversi anni da sempre, almeno da quando sono qua io, pausa purtroppo Covid, che cerchiamo di dare una mano a questa associazione, domani può essere la partita giusta, la partita del grande pubblico, delle grandi emozioni e quindi speriamo che la gente così si renda conto che ci sono tanti problemi nel mondo che non sono solo vincere le partite di basket ma vincere la partita della vita che è la più difficile. ABSI ha proprio questa vocazione di aiutare le persone proprio nei paesi di origine, insomma, cercando appunto di creare attività economiche che li possano sostenere. Saremo lì al Palace con 50 volontari a raccogliere le offerte libere dei tifosi, insomma, all'inizio della partita, cioè durante l'ingresso, insomma, dei tifosi e durante l'intervallo tra il secondo e il terzo quarto, i nostri volontari passeranno tra le persone e chiederanno un'offerta libera, insomma, alle persone. Questa raccolta poi verrà devoluta, verrà appunto inviata alla sede centrale di Milano e verrà destinata ai progetti che fanno parte delle tende, si chiama Campagna Tende, ogni anno ha questa iniziativa e ci sono diversi paesi in cui ci sono dei progetti che verranno finanziati, appunto Uganda, Burundi, Libano, Italia e in particolare poi quest'anno si è aggiunta anche l'emergenza grande del terremoto in Siria e Turchia. Avsi già in Siria aveva un progetto di aiuto perché lì in Siria da oltre dieci anni c'è la guerra civile e quindi Avsi aveva degli ospedali, ha degli ospedali che però sono stati seriamente danneggiati, insomma, dal terremoto e in particolare nella città di Aleppo c'è proprio una... un progetto grande di Avsi e da lì poi è stata completamente rasa al suolo e quindi è una grande emergenza, insomma. Domani speriamo che i tifosi pesaresi siano molto, molto generosi, insomma.